Un artista, come tutti i grandi poeti, sapeva trasformare in un episodio di cronaca un fatto della pesca d'altura, caccia grossa in alto mare, in un fatto poetico, amato e condiviso da tutto il grande pubblico. Si diceva che il siciliano, adottato nelle canzoni, nei testi, favorisse il successo commerciale, ma a noi questo non interessa, seppure forse c'era una piccola amministra, perché lui era un grande poeta e risultato fu amato e condiviso da tutto. Mi è piaciuto di ricevere. Questa canzone proveremo a farla alla maniera argentina, come mi ha insegnato un grande artista, che forse molti di voi conosceranno, col quale è il mio onore di collaborare da diversi anni, che è il sassofonista solista Javier Edgardo Girotto. Quindi la faremo alla maniera argentina, con percussione e voce. che forse. e voce. E voce. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.